Grazie a tutti Germano. Noi dobbiamo ringraziare il professor Melissano e anche il professor Chiesa perché anni fa, quando a un certo punto in occasione di un Marfan Day a Varese li abbiamo invitati e hanno tenuto una relazione, per la prima volta abbiamo trovato delle persone che avevano la visione esatta nei confronti delle patologie della orta e della dissecazione ortica. Visione esatta vuol dire andare al di là del fatto di risolvere il problema acuto, emergente in quel momento, ma di guardare anche in senso prospettico al paziente e alla famiglia del paziente perché il concetto è che la orta è un organo che ha bisogno di un rispetto enorme. Si muove lentamente, molto lentamente nel corso di tanto e tanto tempo, poi si manifesta nel giro di pochi istanti e quindi ha bisogno di un rispetto da parte del medico che deve guardare ad evitare il problema acuto. Questo è un qualche cosa che è un atto di cultura che stiamo in questi anni continuando a promuovere perché tant'è che se noi pensiamo semplicemente che la patologia ortica una volta sembrava una cosa di nicchia, adesso sta diventando un qualche cosa che viene presa in considerazione. E questo è estremamente importante. Allora, quindi ringrazio loro perché hanno continuato nella loro strada, anzi questo ha fatto in modo che ci fossero sempre più collegamenti tra loro e noi e attraverso loro noi abbiamo potuto parlare anche a numerosissimi operatori sanitari, chirurghi, chirurghi, chirurghi vascolari, cardiochirurghi in maniera autorevole, non semplicemente con il contatto perché c'è un paziente ricoverato, ma facendo da relatori nell'ambito di loro congressi. Il congresso mondiale che loro tengono ogni due anni qua a San Raffaele è stata un'occasione di continuare a promuovere questo tipo di cultura. Qua oggi ci sono persone che conosciamo, persone che vediamo per la prima volta, ci sono ricercatori che parleranno della loro esperienza in questo senso. Perché fortunatamente è un gruppo il nostro che vanta qualcosa come 11 collaborazioni di ricerca con istituti che sono proiettati e vengono fuori risultati, stanno venendo fuori delle ottime cose. Forse a breve ci sarà un marker che potremmo anche considerare come di rilevanza per poter individuare quando una persona è a rischio o meno. Di questo ringrazio loro del Monzino con cui stiamo lavorando benissimo e che sono veramente una punta di diamante in questo senso della ricerca. Allora, l'onorevole Maullu è in ritardo, l'onorevole che è un parlamentare europeo, ha detto che alle 10 sarà qua. Iniziamo quindi con la relazione mia, per cui se gentilmente volete passarmi le diapositive. Allora, la mia è una relazione che ha due livelli. Un livello che riguarda il fatto che le collaborazioni sono importanti perché, forse abbassando un attimo la luce qua, perfetto. Le collaborazioni sono estremamente importanti perché nell'ambito delle malattie rare noi abbiamo a considerare che i pazienti non sono così numerosi come gli ipertesi, il 20% della popolazione. E quindi la rilevanza dal punto di vista delle osservazioni e delle deduzioni che ne derivano, sono per forza, richiedono un numero più elevato di quello che un singolo centro può magari riuscire a raggiungere nell'ambito dell'attività quotidiana. Quindi le collaborazioni. Le collaborazioni sono queste. Voi vedete qua siamo contornati, il nostro gruppo è contornato di tante realtà di ricerca e clinica perché lo scambio di informazioni tra i centri è fondamentale. Perché altrimenti si va a guardare l'aspetto anedotico di una persona e si perde di vista quello che è la generalità. È del marzo 2017 il fatto che è stata avviata a livello europeo proprio con questa filosofia la collaborazione tra i centri di rilevanza. Noi siamo uno dei tre centri italiani che sono stati riconosciuti dal Ministero della Salute e poi dalla Commissione Salute Europea. E' con piacere che questo è il primo congresso che viene fatto da questa rete di eccellenze europee che si chiama ERN, European Reference Network. E' il primo congresso che a un certo punto sulla patologia aortica viene riconosciuto, come vedete nel leaflet che vi è stato dato, dalla Commissione Europea e dal Presidente della Commissione Europea. Quindi questo è una cosa di estremo prestigio ed è un'occasione per far sì che il coordinatore europeo della ERN possa salutarvi. Per cui se gentilmente potete mandare il video, lui parla in inglese o parla in francese, questa volta parla in inglese. Si chiama Guillaume Gendot ed è di Parigi ed è il coordinatore riconosciuto a livello europeo della ERN vascolare. Grazie. Mi chiamo Guillaume Gendot. Mi chiamo coordinatore dell'ERN vascolare di disease che è chiamato Vascern. In questo specifico video di RTV section di awareness, voglio presentare cosa è Vascern. Vascern è uno del gruppo europeo del gruppo di disease europeo che è stato riconosciuto dall'Europa in marzo. Il progetto di queste ERN è di migliorare la ricerca di pazienti in Europa e di ridurre le negatività tra i paesi. e per questo abbiamo proposto un network che include diverse working groupi, rare disease working groupi, diverse working groupi specifici per le disease, uno per la aorta, uno per la medium-sized arterie, uno per l'HHT, uno per la vascular anomalie e uno per la primaria pediatrica linfodiima. Combinato con questo, c'è un gruppo dedicato ai pazienti, perché i pazienti sono al centro di l'ERN. Combinato con questo abbiamo anche un gruppo di transversale working groupi, uno per la registrazione, uno per l'e-health, perché l'e-health va fare una grande parte in questi networki in diversi paesi, uno per l'e-health, uno per l'e-health, uno per l'e-health, uno per l'e-health, uno per l'e-health. Questo è probabilmente enough per l'introduzione l'ERN oggi e per fare un buon lavoro session. E' sicuro che Alessandro Pedi e gli altri representanti dell'ERN, che sono presenti in vostra manifestazione, che si elaborano l'ERN. Buon giorno. Sebo. Sebo. In sintesi è la presentazione di quello che è l'ERN, di quello che sono gli obiettivi, cioè l'interscambio di informazioni per fare in modo che i centri lavorino al meglio e offrano l'assistenza migliore ai pazienti. Allora, successiva diapositiva, ma la dissezione ortica per la prima volta quando è stata descritta. C'è una descrizione nel Decamerone. E Boccaccio parla di un giovane che improvvisamente viene a mancare e i medici che lo assistono trovano una situazione come se qualche cosa sia uscito improvvisamente rompendo gli argini. E' la prima descrizione che noi possiamo trovare in termini di letteratura. Quindi di fatto accompagna, ed è poiché si tratta di un giovane, verosimilmente si parla di un qualche cosa che è geneticamente determinato. Non è un qualche cosa di degenerativo dell'anziano. E la lungimiranza del professor Melissana e del professor Chiesa in questo senso è perché, guardiamo questo articolo che è pubblicato quest'anno, dice semplicemente che quando noi ci troviamo di fronte ad una familiarità per dissecazione ortica, il rischio di dissecazione nei parenti è estremamente più elevato. Numero di eventi nella famiglia con dissezione ortica e senza dissezione ortica. Età di insorgenza della dissecazione in chi ha una familiarità e in chi non ha una familiarità. Quindi più precoce. E anni da quando a un certo punto uno nasce all'evento, guardate com'è drammaticamente più basso. Cioè le manifestazioni sono molto più precoci. E per quanto riguarda le probabilità annuali, quanto aumentano rispetto ad una famiglia, ad una persona che appartiene ad una famiglia senza dissezione ortica. Vuol dire che il messaggio è tutte le volte che una persona ha una familiarità per dissezione ortica, attenzione, guardiamo ai parenti. Perché di fatto, ma queste dissezioni sono legate a che cosa? Sindromi? Allora, vediamo che sicuramente, scusate, sicuramente i pazienti che hanno una ricorrenza di dissezione ortica sono più facilmente persone con la sindrome di Marfan. Se in questo caso, però, questo non è giusto, non è confermato in chi ha una bicuspidia aortica. Perché è un altro tipo di situazione. Le dimensioni dell'orta discendente sono più importanti nelle persone che hanno una ricorrenza di dissezione ortica e questo è molto valido per i pazienti con sindrome di Marfan. E, di fatto, la stessa diagnosi di sindrome di Marfan, come diceva prima il professor Melissano, deve far sì che, ad un certo punto, la persona, anche superato un evento acuto, debba essere sempre tenuta sotto controllo perché è il rischio di ricorrenza. E, l'altra cosa importante, i giovani hanno una ricorrenza di una dissezione ortica che tipicamente inizia dalla fase prossimale della orta e poi può ripresentarsi nella parte distale dell'arco ortico. E quindi a dissezione di tipo B, come ha detto il professor Melissano. Mentre invece, nelle forme non legate a sindrome genetiche, avviene il contrario. Cioè, in quello che succede nelle persone più anziane, si ha prima una dissezione che riguarda la orta addominale e poi successivamente ci può essere una ricorrenza nella orta prossimale. Ma la dissezione ortica, che cos'è? È come un iceberg al di sotto del quale noi troviamo situazioni che sono sia sindromiche, queste che vediamo, Marfan, Lois, Diez e Lerdanlos, ma anche non sindromiche. Cosa vuol dire sindromiche e non sindromiche? Vuol dire sindromiche quando a un certo punto, oltre alla orta, ci sono altre manifestazioni. Non sindromiche vuol dire quando invece la orta è l'unico elemento che compare in questa persona. Quindi la struttura fisica e altri organi non sono coinvolti. Di fatto, ad oggi, noi possiamo fare questa classificazione. Queste, e ne parlerà la dottoressa Marelli, perché è più un'area di tipo genetico, sono le sindromiche e queste sono le non sindromiche. Attenzione, queste sono altrettanto numerose, se non di più. E di fatto questo è l'importante messaggio da considerare. Ma la genetica non è solamente quello che ci deve dire, è l'elemento che spiega tutto. Perché esistono fattori che possono influire sull'espressione del patrimonio genetico e far sì che una persona abbia una maggiore probabilità rispetto ad un'altra persona. O che di fatto persone con le stesse mutazioni possono avere rischi di avere determinate manifestazioni minore rispetto ad altri. E questo è un campo di ricerca che noi stiamo ampiamente sviluppando. In questo senso, un centro deve essere a cui la persona fa riferimento, ed ecco che torna il concetto della ERN, deve avere un approccio integrato, più specialisti che guardano più organi, deve avere una rete per le malattie rare. Perché se io non ho uno specialista devo sapere a chi mandare il paziente per fargli dare una consulenza di tipo valido, specialistico. Deve essere aperta a modelli innovativi e complementari di assistenza, di diagnosi, vi dice, non fermarsi esclusivamente a quello che è lo storico. E deve creare cultura, come stiamo facendo ormai da 17 anni, e comunicazione a 360 gradi. Cosa vuol dire? Tenete presente che questo convegno ha raggiunto come comunicazione oltre 36.000 persone attraverso le pagine di Facebook, di Twitter. Perché? Perché la gente deve sapere. E se la gente sa, va dal medico e comunica al medico un'informazione che il medico potrà utilizzare. Ecco perché un centro come il nostro è formato da un team cardiogenetico, da un laboratorio di genetica con cui si lavora e si fa ricerca, associazioni ai pazienti, comunicazione e gli specialisti al fianco che ci aiutano. Ma poiché l'uomo non è un'isola, ecco che a un certo punto, dicevamo, è partita la ERN, la rete si è espansa al di là del territorio nazionale, ed è diventata europea. Sono 31 centri, ma che si occupano di aorta, sono solo esclusivamente 13 in tutta Europa quelli certificati come validi. Questo è stato nell'occasione dell'inaugurazione della ERN a Vilnius nel marzo di quest'anno e, come diceva Guillaume Jandot, qual è l'obiettivo? È condividere conoscenza, condividere ricerca e assicurare la disponibilità delle opzioni terapeutiche a tutti i pazienti. Come strutturato? Sono gruppi dedicate alle singole patologie, al centro c'è il gruppo di lavoro dei pazienti, oggi parlerà il presidente del gruppo di lavoro dei pazienti per la ERN, l'amico Paolo Federici, e poi ci sono dei gruppi di lavoro trasversali, tra cui quello più rilevante è quella della e-health, cioè perché di fatto la e-health è la progressione verso il futuro della modalità con cui l'assistenza sanitaria può essere sviluppata. La presidenza dell'e-health è stata data a noi e noi per questo lavoriamo con il Consiglio Nazionale delle Ricerche nell'ambito del Politecnico, di cui Alessia Paglialonga poi terrà una relazione. Questi sono i centri italiani ed europei per quanto riguarda la patologia della orta, questi sono i centri invece che si occupano della patologia ortica e delle piccole arterie. Oggi parleremo della dissezione delle coronarie e anche delle carotidi. e questo è lo sguardo verso il futuro, cioè tre generazioni a cui deve essere assicurata la prospettiva di vita e di salute. Grazie. Grazie. Applausi Grazie. Grazie. Grazie.